la partita del travel per una notizia ci ha lasciato agghiacciati le notizie sono frammentarie non possiamo essere precisi lo faremo purtroppo nelle prossime ore hanno sparato pochi minuti addietro a mauro lo stagno primo agosto notizia il primo agosto è il primo giorno del mese e il primo giorno di ogni mese a belpasso in provincia di catania appare la madonna ad un giovane cimo ragazzi quando parlo a tutti e dico avete visto cosa succede quando non si obbedisce quando si dicono bugie e quando si frequentano cattive compagnie 26 settembre ecco il titolo del nostro notiziario agguato mafioso a caltanissetta ucciso magistrato che avrebbe dovuto presiedere nella nuova corte l'appello al maxiprocesso di cosa nostra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.